Cari amici, stasera il Presidente del Consiglio ha convocato i capigruppo di maggioranza e opposizione per fare un punto sull'emergenza coronavirus. Non si tratterà solo di affrontare l'emergenza sanitaria, grave che voi tutti conoscete, ma credo che dovremo affrontare con forza un'altra emergenza che sta avanzando sempre di più, che è l'emergenza economica, che si prospetta forse ancora più drammatica e grave di quella sanitaria. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando che le due regioni per esempio maggiormente colpite, la Lombardia e il Veneto, rappresentano il 31% del prodotto interno lordo. Stiamo parlando del rischio che un'azienda su 10 in Italia possa essere chiusa. Stiamo parlando del fatto che nella solo Lombardia 6.000 lavoratori dell'industria metalmeccanica sono fermi. Stiamo dicendo che l'industria manifatturiera, l'industria del turismo, quella dei trasporti, quella dei servizi è stata messa in ginocchio. Volevo solo raccontarvi, per chi è di Milano come me sa benissimo la realtà sotto gli occhi di tutti, che cosa sta accadendo in sole queste due settimane in Italia. Nel Veneto il 90% delle prenotazioni alberghiere sono state disdette. La stessa cosa l'80% in Friuli e siamo in una media dell'80% nella Lombardia. Addirittura Roma, che è ovviamente la regione più lontana teoricamente dall'emergenza, dal fuoco, dal focus dell'emergenza coronavirus, ha visto disdire almeno il 50% delle presenze alberghiere. Ristoranti vuoti, trasporti, i treni hanno avuto in un solo mese il 70% di perdite, nel senso che se i treni viaggiano vuoti, gli aerei li conosciamo tutti, siamo tutti bloccati. Ecco, si prospetta una perdita del PIL tra l'1% e il 3%. Di fronte a tutto questo che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo affrontare seriamente l'emergenza economica, sappiamo che le prime proposte del governo rischiano di essere pannicelli caldi ed è per questo che ogni gruppo di maggioranza di opposizione in maniera propositiva stasera porterà le proprie proposte. Vi voglio dire rapidissimamente le nostre quattro proposte che metteremo sul tavolo del Presidente del Consiglio. La prima, molto semplice ma evidente a tutti, si blocchi per almeno tre mesi il pagamento dei contributi che le aziende versano per i propri lavoratori. Dobbiamo salvaguardare l'occupazione ma altrettanto dobbiamo tutelare che le imprese non muoiano. Si paghi lo stipendio ovviamente ai lavoratori ma le aziende non paghino per tre mesi i contributi che rappresentano i due terzi del costo sui lavoratori. Li pagherà ovviamente in questi tre mesi lo Stato. La seconda, si metta immediatamente gli strumenti di cassa integrazione a disposizione di tutte le aziende comprese le micro aziende. Non abbiamo solo le grandi aziende o le medie aziende o le piccole aziende che andranno in crisi e abbiamo le tantissime micro aziende con due, tre, quattro, cinque dipendenti che non rischiano di chiudere domani mattina e questo ovviamente potrebbe avere un effetto sull'occupazione assolutamente devastante. La terza, burocrazia zero. Basta, noi dobbiamo permettere, prendere spunto da questo per dire si liberano risorse, si permetta la velocizzazione delle pratiche più rapide, si dia immediatamente via libera alla realizzazione delle piccole, medie e grandi opere nel nostro paese. Ultima proposta, la moratoria di un anno sui leasing e sui finanziamenti per le attrezzature, i macchinari e i capannoni e infine le banche in questi tre mesi mettono a disposizione liquidità alle imprese perché quello che mancherà sarà la liquidità, non ci saranno incassi e contemporaneamente bisognerà onorare gli impegni che sono stati presi, ovviamente a tasso zero e con la garanzia dello Stato. Queste saranno le proposte che metteremo sul tavolo, molto concrete, tutti insieme dobbiamo fare uno sforzo, non c'è maggioranza e opposizione, c'è l'interesse del paese in gioco, mi auguro che il Presidente del Consiglio e la maggioranza le recepiscano. Vi terrò aggiornato nei prossimi giorni.